Caldo, AFA, mucche stressate. Il risultato, produzione di latte in calo del 15%. È l'allarme lanciato dagli allevatori. Nella pianura comasca le temperature di questi giorni sono abbondantemente sopra i 30 gradi e nel fine settimana è previsto un ulteriore incremento. Nelle stalle sono quindi scattate le contromisure per combattere lo stress da AFA. Ventilatori, acqua fresca nebulizzata e pasti serviti nelle ore più fresche per invogliare gli animali a sfamarsi e scongiurare il pericolo di disidratazione. Nelle stalle del comasco e delle chese il caldo si è fatto sentire. Già in questi giorni il calo di produzione del latte ha superato il 15%. Per le mucche il clima ideale è fra i 22 e i 24 gradi. Oltre questo limite gli animali mangiano poco, bevono molto e producono meno latte. Spiega Fortunato Trezzi, presidente di Coldiretti Comolecco. Anche notevoli sbalzi termici influiscono negativamente, causando anche potenziali rischi di patologie respiratorie. La tecnologia presente oggi in stalla consente di creare condizioni di benessere utili a mitigare rischi da stress da caldo, che sarebbero ancora più marcati se gli animali fossero allo stato brado. Non solo mucche, a patire il caldo anche gli altri animali, come maiali e galline. Stiamo registrando un calo di circa il 5% nella deposizione delle uova, conclude la Coldiretti Lariana.